buongiorno a tutti di solito non faccio pulizie concentrate in una giornata preferisco diluirle nel corso della settimana ma questa settimana è un po' diversa perché io sono a casa oggi ho più tempo da dedicare alle faccende domestiche e tra l'altro nel fine settimana andremo via per cui volevo fare una sorta di pulizia generale ma non profonda in modo sapete da andare via e lasciare la casa pulita e ordinata e trovarla ordinata e accogliente quando torniamo dal nostro fine settimana mi sono quindi fatta il mio piano di battaglia per oggi che consiste in varie cosine insomma tra cui bagnare le piante fare i bagni su partirei da su quindi fare i bagni il cambio asciugamani puoi fare il cambio lenzuola e una polvere veloce sia su sia giù e i vetri che dovrei fare in questi giorni in cui non ci saremo per cui in cameretta studio in camera nostra in camera delle bambine passare l'aspirapolvere sia su sia giù e poi qua giù anche vedere un attimino la situazione del bucato e lasciare l'asse da stiro pronto e così nel pomeriggio e mi posso dedicare anche un'oretta a stirare un po in modo sapete da trovare le cose per la settimana successiva pronte e anche visto che torniamo da un weekend che in modo che non si accumulino tante cose prima di partire però vorrei fare un saluto a matilde che mi ha chiesto di salutarla in un video matilde è giovanissima lei ama la pallavoro quindi matilde ti mando un carissimo saluto un grandissimo in bocca al gruppo per questa tua passione per questo bellissimo sport che tu la possa coltivare sempre con grinta e sportività e partiamo con le pulizie di oggi che ce ne sono tantissime a dopo a Grazie a tutti. 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 Finito finalmente e non so voi ma a me piace tantissimo cancellare o comunque segnare le cose che ho fatto. e praticamente si è fatta anche l'ora di pranzo, così con le cose che vorrei stirare nel pomeriggio. e non mi resta altro che salutarvi e non mi resta altro che salutarvi e non mi resta altro che salutarvi e vi aspetto al prossimo video la prossima settimana. Ciao!